va bene pronti vado mi chiamo enrico lucidi sono nato in quel di padova perché la mamma era di padova nella prima metà del secolo scorso un dinosauro praticamente tuttavia ho passato il resto della mia vita dai 15 giorni in poi dopo la nascita a foligno perché il papà era folignate a foligno ho vissuto praticamente in via intermezzi di rimpettaia dell'aeroporto di foligno e di conseguenza tra aeroclub tra le varie manifestazioni che venivano a fare la pattuglia e quei delinquenti di grosseto con i 104 non avendo combinato niente a scuola ho detto beh quasi quasi faccio il pilota e così è stato sono entrato in aeronautica con il corso fenice nel lontano 69 e dopo i primi quattro mesi passati in accademia per fortuna solo quattro sono andato a napoli passo indietro siamo entrati in aeronautica nel mio corso il venerdì 17 ottobre del 69 qualcuno sotto la pensilina della stazione di napoli dove ci sarebbe venuto a prendere il pullman dei pozzuoli disse ma oggi è venerdì 17 4 tornarono subito a casa ha detto io faccio parte del secondo scaglione per cui questo c'è rinuncio io lì per lì ho detto beh 4 de meno per cui speriamo bene passati quattro mesi di accademia siamo andati a lecce lc è stato il periodo diciamo quasi più tranquillo nel senso che è filato tutto liscio mi era capitato come istruttore uno di quei ragazzi che facevano il famoso giro chiuso aveva fatto lecce a mendola e poi era tornata a lecce a fare l'istruttore degnissima persona e mi ha insegnato tante cose devo dire stato bravo anche se l'esperienza forse non era ai massimi però è stato veramente bravo non ho avuto grossi problemi se non quella paura assidua costante tutte le mattine di andare a vedere serie ancora nel programma di volo perché le storie poi lì la sera parlando con gli altri a oggi ho fatto una cosa oggi ho fatto che oggi ho fatto della la mattina dopo non stava in programma che fino ha fatto è andata a casa per cui stavi sempre che questo terrore di vedere se eri nel programma di volo è andato tutto bene e sono stato scelto per andare alla linea agli oggetti di conseguenza dopo lecce siamo andati a da mendola lì c'era stata stata una prima selezione noi eravamo entrati in accademia in 120 e siamo andati a da mendola in 28 mi sembra 30 28 30 alla pisa erano andati una quarantina per cui avevano già fatto una scrematura di quasi il 50 per cento da mendola poi abbiamo finito soltanto in otto di conseguenza altra grossa scrematura anche da mendola e a mendola è stato un bellissimo periodo perché mentre a a lecce aveva avuto come istruttore questo sandro calabresi degnissima mi sembra che sia anche morto poverino purtroppo e da da mendola schierati sul piazzale vennero tutti gli istruttori e questo tizio alto con un vocione da paura fa chi è devo che di foligno io sono di foligno c'è allora tu voli con me ho scoperto poi che era dino tricarico futuro capo di stato maggiore dell'aeronautica il quale da foligno mi si è preso sotto la sua ala protettrice e mi ha fatto non dico un coso così ma poco ci mancava però devo dire che è stato veramente la persona che mi ha insegnato a tirar via la buccia da tante situazioni strane finita la mendola dico beh adesso speriamo di andare un po più al nord fino adesso l'aeronautica era stata la puglia è invece destinazione gioia del colle dodicesimo gruppo caccia intercettori capirete che per me da foligno rimini era 112 chilometri grosseto era 120 per cui sarebbe fatto molto più comodo essere in una di queste due basi però non potendo scegliere non avendo santi in paradiso siamo andati a gioia del colle a gioia del colle siamo andati io e il mio collega di corso enrico cassuola e lì abbiamo scoperto che avremmo volato su un caccia di vecchia generazione la serie 80 questo f 86 k che si presentava una volta e mezzo il g 91 un aeroplanone grosso seduto in cabina di pilotaggio guardare di sotto dice se già se casco da qui me fu male figuriamoci se casco con l'aeroplano e la cosa più scioccante è stata il famoso decollo simulato perché qui k non aveva aeroplani biposto per cui c'era il pilota più anziano del gruppo che si metteva sul bordo dell'ala sinistra col tettuccio alzato si andava in pista si dava motore si metteva la b si raggiungevano i 50 nodi e poi si leva subito la b perché se no al pilota se ne andava fatto questo si tornava al parcheggio lui scendeva si chiudeva il tettuccio e poi il segno della croce e andare è stato un bel aeroplano anche perché è stato considerate in quegli anni è stato l'unico aeroplano che era supersonico in picchiata cioè riusciva a superare di poco il mac 1 in picchiata e aveva il post bruciatore per cui era una macchina abbastanza complessa aveva il suo bravo radar che però vedeva poco poverino perché non ricordo di aver mai fatto un lo con al di sopra dei 15 miglia proprio era una cosa se consideriamo che i caccia di oggi vedono beyond the horizon potete capire che 15 miglia praticamente il più delle volte lo vedevi prima con gli occhi e poi dicevi lo con benissimo con questo aeroplano abbiamo cominciato a fare l'addestramento a gioia io il mio amico enrico cassuola siamo diventati com readiness e di conseguenza abbiamo cominciato a montare d'allarme in quel periodo c'erano state molte traversie il campo del mediterraneo era diventato abbastanza caldo per cui le ultime basi di caccia intercettori erano gioia del colle e grazia nese di conseguenza qualcuno dello stato maggiore venne in mente di trasferire delle cellule d'allarme sull'aeroporto di trapani birgi e ci alternavamo sull'aeroporto di trapani noi e i gruppi di grosseto e grazia nese soprattutto nel periodo estivo perché con i caldi di trapani da trapani il k con tutto l'armamento a pieno carico e non riusciva a decollare come dio comanda e di conseguenza facevamo l'allarme nei mesi estivi con intervallandoci con i caccia di grosseto e grazia nese che già montavano sul 104 e alle 11 del mattino quando la temperatura era troppo calda prendevano loro in mano la situazione e poi noi riprendevamo l'allarme alle 17 o alle 18 della sera nel periodo invernale invece non c'erano problemi noi restavamo da soli e ci alternavamo con la cellula che era rimasta sempre a far l'allarme a gioia del colle durante uno di questi trasferimenti a trapani birgi eravamo in quattro c'era anche il comandante di gruppo eravamo smontati d'allarme quella mattina per cui era d'allarme grazzanese e noi avevamo programmato di fare la solida attività addestrativa io avrei dovuto far parte della prima coppia no della seconda coppia che andava in volo la prima coppia era manto vanelli comandante di gruppo claudio e mi sembra enrico cassuola il mio collega nell'altra coppia c'era guido morganti e poi io solo che l'aeroplano del comandante di gruppo 36 01 aveva il ruotino sgonfio e di conseguenza dissero vabbè comandare lei prenda quello dei lucidi e intanto noi ricompiamo il ruotino e all'uscita e diamo il suo aeroplano nessun problema abbiamo cominciato a fare tutti i controlli sono salito su questo 01 messa in moda decollo a 30 secondi in fila indiana rata decolliamo per la pista verso l'interno della sicilia per poi andare nella zona riservata all'addestramento era un periodo che questo aeroplano aveva avuto dei grossi problemi col fiù e contro gli unit e di conseguenza ogni tanto questo sistema dava dei pompaggi particolari al motore era come se il motore si spegnesse in realtà non si spegneva però c'aveva queste pulsazioni perché il fiù e contro gli unit e non lavorava correttamente e allora la fiat aveva portato una modifica bypassando il fiù e contro gli unit il carburante con un interruttore messo qui sul sul vicino al tettuccio si poteva passare direttamente alla fruizione del carburante in funzione dell'angolo manetta noi eravamo in salita intorno ai 13 mila 14 mila piedi io in fila indiana per cui con la manetta quasi al cento per cento dietro a guido morganti con la sua traccia sul radar davanti gran botto sguardo rapido all'interno giri in rapida diminuzione strillo è caso di dirlo in frequenza mi ha piantato motore guido morganti molto tranquillamente ha pensato questo ha avuto le fluttuazioni e adesso pensa che gli abbia piantato motore e mi suggerisce dice me passa sua emergenza passa sua emergenza di colui esperto io neanche 200 ore di questo aeroplano per cui sarà così faccio la bossa da off a on di emergenza e immediatamente vicino si sono accese incendio e sul riscaldamento perché perché poi abbiamo scoperto che per cedimento strutturale di 6 o 7 palette queste 6 o 7 palette hanno entrando dentro il motore triturato tutto il compressore rendendolo un po come quando voi andate alla fiera e prendete una pannocchia di quelle che fanno sul fuoco e così era il compressore del del motore delle 86 una volta che lo hanno tirato fuori dalla buca che ha fatto dopo vista la situazione dico adesso ha preso anche fuoco l'aeroplano è che ho sentito guido morganti che ha detto la io ho pensato di interpretare questa sua non pensavo che parlasse di musica dico sicuramente voleva dire lanciati perché io ero già fuori praticamente eravamo in aperta campagna per cui sotto non c'erano problemi che l'aeroplano facesse grossi danni per cui dico l'aeroplano se ne vada per conto suo io spero di andarmene per conto mio e così è stato grande colpo al sedere perché questa aeroplano non era un martin becker era c2 mi sembra di ricordare un sedile particolare per cui o avevi 180 nodi di velocità o almeno 2000 piedi al di sotto di questi due parametri non garantiva la salvezza del pilota io non avevo grossi problemi perché stava a 14 mila piedi per cui il tutto è avvenuto tranquillamente visione nera per tre o quattro sic che onde perché chiaramente mi sembra che ci fossero qualcosa come 16 o 17 g dava il cannone di questa di questa macchina per cui per una frazione di secondo ho pensato praticamente 16 o 17 volte il mio peso era un po più leggero di adesso però era comunque tanto unica cappella dimenticato di poggiare i piedi sui poggia piedi togliandoli dalla pedaliera e questo ha fatto sì che quando il seggiolino se n'è andato i piedi sono tornati violentemente contro i due pioggia piedi e per una settimana ho avuto due polpacci grossi quanto quanto un bel capocollo di quelli proprio come dio comanda rotazione in aria appena uscito dall'aeroplano investito dal dalla corrente d'aria cominciato a girare a girare e poi questo strappo guardo per aria c'era il paracadute dico a posto nel frattempo guido morganti è tornato indietro cercando di capire se io stavo bene mi girava intorno io gli facevo scena di andarsene perché dico guido tra me e me il paracadute saperto vediamo che non fallo chiude adesso no per cortesia e guido per fortuna dopo un po quando ho cominciato a scendere mi ha seguito fino all'atterraggio però faceva giri molto più ampi ho fatto anche qualcosa come mi sembra una diecina di minuti di discesa dai 14 mila piedi con questo ombrellone sopra la testa e cercando di capire dove sarei andata a finire l'aeroplano non ho assolutamente avuto modo di vedere dove fosse caduto per cui però non vedevo nessun segno continuato a scendere man mano che mi avvicinavo al suolo ho cominciato a cercare di capire dico qua piuttosto sarà un problema perché se non c'è niente a cui appellarsi bisognerà aspettare proprio che arrivino i soccorsi si innescava automaticamente il beacon quello dell'emergenza per cui quello stava funzionando e di che arriverà qualcuno poi man mano che mi avvicinavo verso terra invece c'era un campanile con una struttura che mi era sembrata un convento un qualcosa del genere e man mano che mi avvicinavo a terra io stavo cadendo dalla parte opposta della collina che mi separava da questo campanile da questo convento io pensavo fortunatamente tra le altre cose oltre non essermi fatto niente sono anche caduto su un termitaio di un metro un metro e venti per cui come chi cade sul materasso non mi sono fatto neanche male l'unica preoccupazione mia sganciarmi raccogliere tutto il paracadute dico perché questo sicuramente me lo addebitano anche se poi ho pensato in definitiva questo aeroplano faceva parte di un famoso piano marshall ed era stato dato in in omaggio chiamiamo così al prezzo simbolico di un dollaro per cui per rifondare l'aeronautica italiana di conseguenza pensando a questo dico vabbè tutto sommato un dollaro ancora me lo posso permette scendendo raccolto comunque il paracadute il casco mi era volato via e l'unico graffio che c'era qua sotto perché non lo avevo stretto bene e con l'aria che mi ha investito se n'era andato poi è stato recuperato anche quello tra i resti che che servivano presa tutta la roba mi sono incamminato verso dove ho visto sparire il campanile scavallata la collina infatti c'era sotto questa questo grosso questo grosso edificio con la chiesa e poi sono entrato cominciato a chiamare però silenzio di tomba c'è qualcuno c'è qualcuno niente c'è qualcuno poi mi sono messo un attimo in silenzio nel frattempo guido se n'era tornato a trapani con l'altro aereo sento delle voci delle cose strane entro dentro questa struttura una struttura enorme che ho scoperto poi essere un convento ma non adibito ancora a convento comperato da un certo barone inglese guglielmo sentendo queste voci mi sono diretto più o meno e mi sono diretto da dove venivano queste voci verso le cantine e nelle cantine arrivati in fondo alle cantine mi sono trovato di fronte a delle botti altissime addirittura erano dei tini poi ho scoperto e dove c'era la gente che stava pestando il vino con i piedi come si usava tantissimi anni fa ha fatto cacciato un urlo c'è qualcuno è venuto su uno che c'è dico guardi ho avuto un problema con l'aeroplano a dice non si preoccupi il barone è venuto a cercarla perché ha visto l'aeroplano che precipitava di cui è venuto e dico ma io non l'ho incontrato io sono venuto dalla collina e dice no lui è venuto su per la strada vedrai che fra poco arriva nel frattempo è sceso dalla scaletta ha preso un boccale di terracotta dice beva un concetto che magari gli fa bene e dico beh magari un concetto anche se sono le nove un quarto della mattina quasi quasi me tira un po su e mi ha dato un po di questo mosto che stava uscendo ho bevuto poco per fortuna poco dopo arriva il barone inglese a bordo di una r4 saluta mi si presenta mi pure io sottotenente quella buongiorno buongiorno venga venga e dico senta bisognerebbe poter parlare con l'aeroporto di dravoni non si preoccupi andiamo andiamo su in casa siamo andati in casa e lì ho scoperto che c'era questa cosa enorme pensate che c'aveva c'è al suo interno ancora se ci andate oggi addirittura oggi come oggi è stata trasformata in un rele di grandissima attrazione all'interno di questa struttura ci sono due chiostri uno grande come quello di asci reale e l'altro leggermente più piccolo due chiostri all'interno di questa struttura ci sono dei corridoi alti qualcosa come sette metri credo qualcosa del genere con tutte queste panche c'era il refettorio con c'era il coro dove cantavano nella chiesa insomma una storia che non finiva più siamo andati nell'ufficio di questo signore all'ingresso dell'ufficio due zanne di elefante messe in croce e questo qui tutte fotografie uno che si dilettava fare i safari quando all'epoca si potevano andare fare i safari oggi come oggi lo avrebbero praticamente impiccato e questo signore poi parlando ha detto di aver fatto parte anche lui dell'aeronautica durante la seconda guerra mondiale di essere stato una volta abbattuto e l'altra volta si è dovuto lanciare anche lui per avaria al motore dico allora io non ho fatto niente stamattina è andato tutto regolare frattempo tira fuori anche lui la bottiglia del barbon beva beva un goccetto tenente perché le fa bene beviamo un goccetto un altro goccetto di barbo morale della faula chiama la base la base nel frattempo aveva già detto che sarebbe arrivato l'elicottero del sar e che ci avrebbe prelevati mi avrebbe prelevato all'arrivo dell'elicottero del sar lui ha detto potrei venire pure io tenente io ho guardato il pilota dell'elicottero dico potrebbe venire anche il signore qui dice per me non c'è problema dice guardi che però non dobbiamo andare a trapani in aeroporto dobbiamo andare alla seconda regione alla terza regione aerea all'epoca le regioni aeree erano le zatte le famose zatte la prima zatte su al nord la seconda qui roma e il centro italia e la terza zatte giù a palermo e siamo andati giù alla terza zatte dove c'era questo generale il quale ha voluto sapere subito prima del comandante di aeroporto di trapani come fossero andate le cose ci siamo presentati da questo generale il quale ha voluto che io gli raccontarsi un po tutta la storia probabilmente il mosso del contadino il barbon del qualche effetto alle nove e mezza lo avevano prodotto di conseguenza la prima cosa che ha fatto quando mi ha scrutato per i primi cinque minuti ma lei tenente è andata in volo così stamattina fortunatamente che mi ero portato il barone inglese guglielmo il quale amico del generale detto no antonio nome a caso l'ho rincuorato io il tenente perché l'avevo visto che stava un poco scosso per cui c'è per fortuna dice perché se no dopo tutta questa storia per cui è andata alla grande nel senso che con l'elicottero siamo ripassati dove era caduto l'aeroplano allora io mi sono lanciato che ero praticamente sulla verticale di sambuca di sicilia l'aeroplano è caduto a 4 chilometri e mezzo da corleone di sicilia siamo passati e dove era già arrivata la squadra degli armieri dall'aeroporto di birgi per cercare di tirar fuori questo aeroplano che mi hanno raccontato e poi l'ho sentito pure io aveva fatto una buca di qualcosa come 4 metri si era infilato in un tratto abbastanza fangoso perché erano giorni che pioveva ed era dato sottoterra e sotto da sopra si sentivano ogni tanto i colpi perché è andato sottoterra col calore dell'incendio delle cose tutti i proiettili che erano dentro l'aeroplano dei cannoni venivano tolti i missili quando si finiva l'allarme ma non venivano scaricati i contenitori dei proiettili di conseguenza a intervalli quasi regolari si sentiva ogni tanto uno scoppio che era uno dei 20 mm che che scoppiava l'aeroplano aveva sfiorato diciamo un ovile dove c'era un pastorello il quale 40 anni dopo perché sono ripassato lì con mia moglie una quindicina di anni fa e sono voluto di andare a vedere dove era caduto l'aeroplano e questo pastorello era diventato nel frattempo un uomo grande io mi sono presentato dico ma qui tanti anni fa è caduto un aeroplano così così dice sì mi ricordo e io ero qui ci ho messo due giorni e mezzo per recuperare tutte le pecore mi dispiace tanto dico per fortuna non ha fatto danni neanche spiorando il finire l'aeroplano è caduto 200 metri più in basso e niente la sotto poi se volete c'è ancora il grilletto la manopola del bracciolo destro con il grilletto che ancora funzionante del sedile che mi ha permesso di raccontarvi questa storia finito il periodo di gioia del colle con l'f 86 è andato in dismissione da parte del nostro gruppo è stato passato tutto quanto al 23esimo di rimini siamo andati a fare il passaggio a grosseto sia io che il mio amico enrico gasuola al ventesimo al ventesimo avuto la fortuna di avere come istruttori amos ghisoni brutti parascosso fiorini loli tutti i personaggi di un calibro veramente grande grande e poi siamo tornati giù a gioia il periodo di grosseto è passato molto la svelta non facevamo tante missioni perché noi eravamo già combattere di tutto quanto a un passo indietro dopo il lancio la mattina due mattine dopo mi hanno mandato a napoli all'istituto medico legale fatto la visita sono tornato a gioia nel tardo pomeriggio e mi avevano già messo in programma per i notturni per cui come se niente fosse e abbiamo fatto i notturni sperando che speriamo che questo non rifaccia la stessa storia fortunatamente non l'ha rifatta fatto il passaggio sul 104 è continuata la mia vita di gruppo per per altri sette anni periodo di gioia è stato da una parte bello dall'altra parte abbastanza triste perché in dieci anni di gioia del colle io ho fatto nove funerali avevamo un aeroplano perso e un pilota perso mediamente una volta ogni 13 mesi 14 mesi ma non perché la macchina fosse particolarmente difficile che forse noi non avevamo ancora capito che andava volata come era scritta sul dash one e basta poi ci si prendeva un po troppo confidenza e di conseguenza qualche volta quando andavi al di sopra delle righe lui non non ci voleva andare io ho avuto solo un grosso problema con con 104 ed è stato durante un combattimento simulavamo dopo le intercettazioni combattimento ho avuto l'ingresso dello shaker e del kicker per cinque sei volte ma perché io avevo forzato la mano fortunatamente eravamo altri l'aeroplano è riuscito a cioè sono riuscito a puntare il musso verso il basso riprendere la velocità un mio collega che stava gioia del colle aldo valmori invece è stato uno dei pochi forse uscire dal pitch up che era una particolare forma di distallo di questa macchina perché avendo i piani di coda in alto se uno tirava troppo il flusso delle ali andava a interferire con lo stabilizzatore e di conseguenza l'aeroporto se ne andava come un barattolo era difficile recuperarlo lui ebbe la fortuna di passando con il muso sotto l'orizzonte ebbe l'idea di tirare il parafreno stabilizzato l'aeroplano col muso basso colpo di vostro bruciatore si è strappato il parafreno ma l'aeroplano avendo vuota è riuscito a riprendere la sua configurazione normale e ne è venuto fuori a me invece è successo durante un finale per pista 32 a gioia questo aeroplano aveva un sistema particolare avrei a due posizioni dei flappi flap su take off e i flap sull'enda quando il flap era sull'ende doveva essere soffiata la parte posteriore del flap perché assumeva un'angolazione talmente alta per cui si costringeva i filetti fluidi che passavano sopra l'ala a seguire il profilo soffiandoli veniva spillata aria dal diciassettesimo stadio mi sembra di ricordare e questa soffiava lungo i flappi mantenendo i filetti fluidi e io in virata base a 100 piedi di quota fortunatamente e dico in questo caso fortunatamente perché in questo mestiere tante volte anche la fortuna gioca un ruolo particolare in virata base sinistra fortunatamente a me è saltato il sistema del dlc del flap destro di conseguenza in virata così l'aeroplano ha fatto così fortunatamente sono stato pronto a rimettere i flap su tio ma se mi fosse mancato il dlc del flap sinistro a 150 piedi da terra la rotazione sarebbe stata immediata e probabilmente ero lì nella murgia baresana come la chiamano loro ero nel frattempo ero ero sempre intenzionato a passare alle linee civili ma le solite le solite diatribe i soliti non accordi fra linee aeree civili e aeronautica aveva fatto questi flussi e riflussi della storia dove periodicamente se ne andavano in 300 e periodicamente bisognava restare in 300 quando si è liberata tutta la situazione con grande dispiacere ho abbandonato queste queste belle macchine perché devo dire veramente erano era un puro sangue oggi come oggi sarebbe fuori contesto però a quell'epoca quando lavorato io perlomeno era una gran macchina e poi con il caccia che lo hanno che lo hanno seguito soprattutto dal punto di vista delle avioni che è cambiato tutto come prestazioni no ci sarebbe ancora lui perché saliva in una maniera incredibile dopo 120 secondi dal rilascio dei freni lui stava a 37 mila piedi a mac 1 e in accelerazione era una macchina che aveva delle prestazioni eccezionali poi è diventata anacronistica proprio perché avionicamente era inaccettabile passati alle linee civili io ho avuto mio cugino anche lui di foligno giuseppe giovanni marchini che nel frattempo lui da tanto tempo era pilota all'alitalia ea me arrivarono in contemporanea le due lettere sia dell'alitalia che dell'ati andai da lui e chiesi giovanni dico che faccio qua sono tutto due chiamate e lui mi dice riguarda oramai un po tardi c'è una certa età c'è 32 anni io ti consiglierei di andare al lati perché così almeno avrai modo di fare il corso comando abbastanza la svelta e qui invece l'alitalia siamo un po un po ingolfati ci sarebbe da aspettare qualche anno qua e la vabbè dico non c'è problema andiamo al lati e sono andato dal lati e allati invece se erano ingolfati pure loro perché ho aspettato la bellezza di 12 anni prima di fare il corso comando comunque pazienza allati allati che devo dire devo dire che sono stato molto molto bene a parte il lungo periodo per diventare comandante però poi una volta fatto il corso comando la vita è trascorso serenamente io non ho avuto un bel rapporto con con gli aeroplani da sempre ho avuto un rapporto di odio e amore nel senso amore perché mi è sempre piaciuto e l'odio tutte le volte ho avuto le avarie io ho un cognato anche pilota di 104 pure lui ho avuto tanti colleghi però onestamente c'è gente che ha passato una vita aeronautica senza che gli sterno disse il motore mai ho avuto una serie incredibile di emergenze una cosa paurosa di conseguenza posso dire punto di aver avuto questa questo questo rapporto un po strano con la macchina in aeronautica quella storia del lancio la storia del flap lo shaker di questa ragazza qua sopra che mi ha regalato il buon mai nini tante problematiche passate alle lini civili no grazie a dio ce ne sono state molte meno però se non state alcune gravi ho avuto un'altra piantata motore durante i sei mesi di prova del corso comando tra l'altro io mi ero cancellato dai sindacati da tanto tempo perché il primo rinnovo contrattuale all'ati avevo pensato dico fino adesso i miei sindacalisti erano i miei superiori i quali con una pacca sulle spalle però poi gli dicevano ragazzi chiudiamo i denti per un po poi facciamo quattro giorni di festa e ti doveva accontentare di qua il sindacato pensavo fosse una cosa seria per cui la prima cosa che ho fatto all'ati mi sono iscritto all'associazione dei piloti primo rinnovo contrattuale tutti i soldi alla l'italia niente all'ati costo qui no qui qui non va bene così per cui via dalla dall'associazione piloti poco dopo nasce il sindacato dei piloti dell'ati allora qui mi scrivo mi scrivo anche questo sindacato se non che poi li ho scoperto che si iscriveva a questi sindacati solitamente chi non aveva tanta voglia di volare io in 25 anni di alitalia ho fatto cinque giorni di assenza tre quando è morta mia mamma mio padre e due quando è morta mia madre altrimenti mi sono volato tutti i miei turni tutti i miei turni di riserva e qualche d'uno anche forzato per carità faccio solo faccio va beh mi ero tolto dal sindacato ho fatto il corso comando perché questi vengono subito guarda enrico adesso farà il corso comando di guardare ragazzi lasciate sta fatemi c'è prova io devo vedere se sono capace di fare il comandante se non so capace pazienza superato il corso comando sei mesi di prova ridecco quelli del sindacato guarda adesso sei sei mesi di prova qui se ti succede qualcosa è un problema grosso in quei sei mesi avuto la piantata motore in decollo da bari con le md 80 anche lì un problema di fiù e control cfc uno proprio quasi quasi sbollentato per cui risolta quella ho avuto una reiette che off a valenza alla v1 ci siamo fermati a 20 metri dal fine vista ho avuto una mancata collisione sul roma fiumicino per colpa dell'altro per fortuna poi una decompressione esplosiva esplosiva no perché stavamo a 27 mila piedi però si è staccato un condotto dell'area condizionale della della pressurizzazione per cui dovuti scendere di corsa che altro mi è successo scoppiata la una gomma in decollo del carrello principale la interna destra si in decollo da linate atterrati a pisa anche lì con pompieri che ci corrono dietro tutte queste storie per cui passati anche quei sei mesi poi è andata quasi via tranquillamente tutto il periodo nel 2001 2001 primo volo del mattino 1775 l'ho letto prima se no chi se lo ricorda decolliamo da da roma per palermo era un roma palermo palermo roma con appena 27 28 passeggeri primo volo del mattino alle 6 6 7 alle 7 del mattino le ragazze dice comandante già sapevano qualcosa anche loro potremmo fare il famoso to stage che così andiamo a mangiarci tutti i cannoli lì al bar facciamo sto to stage di votando siamo leggeri abbiamo fatto il to stage volava la tratta il copilota che ho di claudio chiodi e io mi sono messo lì a seguire un po da uno sguardo al giornale mi hanno portato qualcosa da mangiare le ragazze e quando siamo stati all'altezza delle isole delle femmine giù il carrello giù il carrello due verdi e una rossa quale la rossa anteriore dicono beh claudio fai un passaggio sulla torre e vediamo che ci dice la torre passiamo sulla torre e adoro ci dice sì in effetti i portelloni i piccoli portelloni del carrello anteriore sono aperti però la ruota sta dentro ok riattacchiamo riandiamo sul mare facciamo la prova d'emergenza proviamo a tirare giù con l'emergenza sto carrello ripassiamo sulla torre niente sempre su intenzioni dico claudio sai che facciamo noi è inutile che stiamo a terra qui a palermo perché se per caso ci fermiamo all'incrocio delle due piste blocchiamo palermo tutta la giornata abbiamo quattro gatti noi ce ne torniamo a fiumicino le viste ce ne abbiamo quante ce ne pare lì c'è la manutenzione e così facciamo infatti siamo ritornati su ho detto ai passeggeri quello che stava succedendo nessuno si è preoccupato o lamentato solitamente mi aspettavo quando succedono queste cose invece nessuno ha detto niente e a fiumicino abbiamo preso la pista 16 centrale c'era la sinistra la centrale abbiamo preso quella meno trafficata lì niente abbiamo fatto questo atterraggio senza nessun problema si è poi verificato qualche giorno dopo sono ripassato lì nell'anga della manutenzione e mi è stato detto che questo carrello praticamente era stato stressato qualche giorno prima e poi aveva ceduto proprio meccanicamente si era rotto proprio il perno della gamba né in fase di retrazione quando noi siamo decollati da fiumicino in fase di relazione ha finito di spezzarsi e non sarebbe mai venuto giù di conseguenza l'aeroplano praticamente la manutenzione a quell'epoca nel 2001 mi dissero che aveva fatto sì e no 25 mila euro di danni di carrozzeria per il resto hanno dovuto solo sostituire il il piantone del carrello anteriore poi è tornato in linea dopo 15 giorni l'aeroplano io avevo rotto l'antennina del vor del vioar una centina davanti perché l'avevo fatta talmente al centro dico perché non si sa mai che avevo preso uno dei cinesini proprio del centropista appena sentito quella botta mi sono spostato dieci centimetri a sinistra in modo che non prendiamo tutti gli altri cinesini fino a quando non ci fermiamo però quando ho continuato dopo questo incidente a volare per altri quattro anni poi la compagnia ha chiesto a quelli più anziani più costosi se cortesemente ci potevamo togliere dalle scatole così avremmo dato spazio a quelli che dietro spingevano perché ce ne andassimo e così mi sono ritirato l'ultimo volo ho fatto un amsterdam fiumicino uno degli ultimi voli che ho pilotato perché gli ultimi anni lasciao giocare i ragazzi come franco manini e company e ho chiuso così la mia carriera di pilota abbiamo fatto insieme con il mio amico reste che stava con me a gioia del colle l'acquisto di un moto aliante in romania lo abbiamo finito lo abbiamo assemblato tutto quanto abbiamo fatto un paio di voli abbiamo avuto una piantata motore tanto per cambiare di quello se volete o il filmato però è una sequela di bestemmie inconcepibili da parte del mio amico rest che stava davanti ai comandi per cui non ve la faccio neanche vedere per cui e allora quello è stato praticamente l'ultimo volo da 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 pilota ai comandi diciamo per modo di dire invece ho fatto l'ultimo volo civile con un a3 180 rientrando da los angeles dell'air france ho fatto un los angeles parigi parigi roma e sono qualcosa come sette anni che non volo non ho grossi rimorsi non ho grossi rimpianti certo la sera quando esco qui ogni tanto vedo queste luccele che passano adesso ne passano pochissimi in questo periodo ma quando ne passano parecchi ogni tanto alzano lo sguardo cioè lassù ci sono stato anch'io per 37 anni